Mi scusi buon uomo? Mi sa dire l'ora per favore? E 5 e 35 Ma è sicuro? E 36 mo? Grazie Prego Ha mangiato il ciuchino, eh? Che no? Senta, mi sa dire che ora sono adesso? Androrta Le 7 e un quarto E u, ma sono le 7 e un quarto spaccato, incredibile Ma lei come fa a leggere l'ora nelle palle del ciuchino, scusi? No, io le arzo Sotto c'è il campanile, vedi? E a vedere, 7 e un quarto